la visione del giardino, quella che noi abbiamo tracciato quest'anno con una programmazione particolare in cui gli artisti hanno presentato opere uniche per la prima volta e hanno in qualche modo letto il giardino interpretato. Questa era la nostra chiave di lettura per la programmazione di quest'anno e Giovanni Giuseppe l'ha interpretata, lo devo ringraziare magnificamente. L'ultima cosa solo che volevo dire, noi siamo andati anche facendo degli sforzi notevoli anche oltre, per esempio tutto il packaging che noi abbiamo realizzato per questa collezione è un packaging ecosostenibile. Le carte, queste scatole sono fatte da un artigiano napoletano che è conosciuto nel mondo, che io ho conosciuto casualmente qualche anno fa e sono carte riciclate. Anche la stampa viene, in sei ore vengono rigenerate nell'ambiente in modo naturale, dalle shopper in cotone, alle lavorazioni naturali che non inquinano. Noi teniamo un po' più alla sostanza che soltanto a dire che stiamo rispettando l'ambiente però poi alla fine tutto il resto non c'è. Noi siamo partiti prima dal prodotto e poi parliamo del resto. Grazie. Grazie.